Book 2 Nella nostra città c'è uno stadio. C'è anche una piscina con la sauna. E c'è un campo da golf. Cosa c'è in televisione? Stanno dando una partita di pallone. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. Chi vince? Non ne ho idea. Al momento sono pari. L'arbitro viene dal Belgio. Adesso c'è un rigore. Adesso c'è un rigore. Gol 1 a 0 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 Gol 1 a 0